Musica Visto che spettacolo, durante questo percorso avete la possibilità di vedere davvero tante cose, a parte una coltre di gente arrivata da ogni parte di questa nostra Sicilia. A termini merese per la notte bianca, è davvero qualcosa di straordinario, intanto continuiamo il nostro giro perché ci sono ancora tantissimi stand e tantissime novità e ancora tante cose da incontrare, da sfruttare, insomma trascorrete questa notte d'estate insieme a noi perché non ve ne pentirete decise nulla. Allora su questo palco, ad iniziare questo spettacolo tra pochissimo ci sono gli ottoni animati. Signori questa è una band davvero eccezionale. Pensate, i loro brani sono stati scelti come colonna sonora di una notissima trasmissione televisiva che è appunto Linea Blue. Il loro tipo di musica è un groove moderno, è qualcosa di veramente straordinario che comunque si riallaccia al passato con questi suoni. Vi diamo subito un esempio. Pronti ragazzi? Attenzione, gli ottoni animati. Vai! Grazie. 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 Lo facciamo un applauso a questi ragazzi che arrivano da Ramadì! Ma guardatevi, cosa sono capace di fare? Ragazzi ma animate pure i matrimoni in questa maniera. No, non fate matrimoni. potrebbe essere pericoloso silenzio! hanno sbagliato il finale e beh mi sa che hanno sbagliato il finale scusi ma se lei li fa fuori tutti come si fa a suonare? sono morti davvero no sono morti beh è una scena un po' è un po' inquietante ragazzi sono morti e quindi originali ragazzi originali credetemi noi facciamo spettacoli di margine nella vostra originale e dico l'applauso di tutta la piazza di un po' inquietante un po' inquietante grazie Grazie a tutti.